E' online la nuova piattaforma Toscana Lavoro, che punta a semplificare e sostenere l'incontro tra chi cerca e chi offre un impiego o un'occupazione. La piattaforma è unica per tutti i territori della Toscana ed è suddivisa in tre sezioni, cittadini, aziende, agenzie per il lavoro. Come ha spiegato l'assessore regionale Cristina Grieco, l'obiettivo della regione è innovare la comunicazione fra il cittadino e le aziende da una parte e la pubblica amministrazione dall'altra, in un'ottica di trasparenza. Si parte con la sezione dedicata ai cittadini e dentro qualche settimana entreranno in funzione anche le altre due. L'accesso alla sezione cittadini può avvenire con tre modalità, libera, ovvero senza autenticazione, con utente e password oppure con autenticazione forte tramite speed e cns. I servizi disponibili dipendono dalla modalità di accesso. Con la modalità libera il cittadino può solo ricercare e prendere visione delle offerte di lavoro in Toscana. Con gli altri tipi di accesso i servizi si moltiplicano fino a disporre di una scheda anagrafica professionale e di un libretto formativo.